Sembra non trovare soluzione immediata alla vicenda che riguarda la redazione del bando per l'affidamento del tennis club Villa Medeo. La riunione di martedì tra amministrazione, provincia e ASP sarebbe dovuto essere risolutiva ed invece tutto si è fermato. Pare che sia l'ASP ancora a non aver sciolto il nodo. Una particella del circolo del tennis è di proprietà dell'ASP che ad entrambe la riunione al comune ha inviato dei tecnici ma il commissario che al momento dirige l'azienda ospedaliana non è mai stata presente. Adesso necessita un sopralluogo che pare debba essere espletato alla presenza del vertice massimo dell'azienda ospedaliera sopralluogo che sarà effettuato probabilmente nelle prossime ore. Tutto ciò per poter fare un bando unico con l'accordo dei tre proprietari ovvero il comune che ha la maggioranza, la provincia, già d'accordo per il bando unico ed infine si aspetta l'ASP. Ma quello del bando è solo un aspetto, forse il più importante, ma solo un aspetto. Infatti nell'emore della redazione del bando c'è da stabilire chi gestirà il circolo che ha la necessità di manutazione continua, dati i campi in terra rossa ed anche la presenza dei soci che vorranno esercitare il loro diritto di usufruire la struttura. La proroga dell'affidamento scalda il 18 luglio, ovvero fra una settimana. Terzo aspetto da non sottovalutare il challenger. Mentre l'amministrazione spinge agli attuali gestori del circolo a dilazionare quanto più possibile la data di risposta affermativa per ospitare il torneo, sarebbe questo il ventunesimo anno. La nuova dirigenza, che ancora non è subentrata ufficialmente alla vecchia dopo le dimissioni del presidente Michele Trobbia, fa spallucce. E non si sente di assumersi un impegno così gravoso, costa 300.000 euro, il torneo challenger, senza una certezza. La data di risposta dalla FIT scade i primi di agosto. E dunque, che ne sarà del tennis club, una delle strutture agonistiche più belle della Sicilia meridionale? Dal 18 luglio sarà chiusa. A queste domande ancora non vi è alcuna risposta.